Il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole e nella società civile sono un fenomeno che va prevenuto e governato. In municipio è stato presentato un progetto rivolto agli istituti comprensivi di Pordenone. Il sindaco Alessandro Ciriani illustra le finalità. Il comune rafforza e robustisce la propria attività contro il bullismo, un fenomeno che sta assumendo dimensioni pericolose, non solamente a Pordenone ma ovviamente un fenomeno ormai nazionale, europeo, mondiale. Lo facciamo sulla base delle elevazioni che ci arrivano dagli educatori di c'è la delegazione giovanile piuttosto che nel mondo della scuola. Ma è un fenomeno che investe ovviamente anche la famiglia, la società e cioè l'assenza di gerarchie, di valori, di regole, di educazione, di rispetto che porta ovviamente qualcuno ad avere un'autostima gigantesca, ad essere anche una persona magari popolare tra i propri coetanei ma creando grossi danni nei confronti di chi non può difendersi. Ora noi vogliamo mettere in campo degli strumenti che sono in grado di intercettare questi bulli, di portarli sulla retta via, di fare i modi di controllare questa aggressività ma soprattutto anche di instillare delle regole che consentono di non vedere più quei fenomeni esecrabili di ragazzi che rispondono male agli insegnanti che mangiano durante l'area di scuola o che magari in città imperversa nobulizzando ragazzi che sono sicuramente più fragili. È una sfida importante che va combattuta anche contro messaggi che quotidianamente arrivano dalla radio, dalla televisione, dai giornali che come dire esaltano la vanità e l'autostima di questi ragazzi invece di imporre ripeto delle gerarchie e delle regole che consentirebbero di vivere tutti più tranquillamente. L'assessore alle politiche giovanili e alla cultura Alberto Parigi mette in evidenza lo spirito di collaborazione con scuola, famiglie, associazioni e l'integrazione con altre iniziative. Allora mettiamo in campo una serie di iniziative per contrastare il bullismo, in particolare il cyberbullismo, rivolte sia a alunni che a genitori che a famiglie, in particolare a scavalco tra la scuola elementare, gli ultimi anni dell'elementare e le scuole medie. È un progetto costruito in stretto dialogo e collaborazione con le scuole che hanno i loro progetti sul bullismo, allora per non creare doppioni, sovrapposizioni ci siamo coordinati in modo da andare a integrare l'offerta. Sono iniziative per così dire immateriali i cui effetti si vedono nel lungo termine ma servono assolutamente perché il benessere di una comunità, la tranquillità di una comunità si ha anche da questi progetti. A Prodenone non c'è un'emergenza bullismo, ci sono dei singoli casi e questi progetti servono a contrastarli e a mantenere, ripeto, una comunità, uno standard elevato di vita. Il progetto è rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, ma anche ai docenti, al personale scolastico e ai genitori, come ha precisato Matteo Giordano, referente del progetto, per contribuire a colmare il gap generazionale sul digitale con i giovani. Su quest'ultimo aspetto i dati regionali segnalano che il 64% dei genitori non conosce il funzionamento del sistema europeo di classificazione per età dei videogiochi, il 33% non sa o sottostima l'età minima consentita per l'utilizzo di WhatsApp e il 30% non conosce il limite di età di TikTok. Quindi un progetto triennale che aiuta a capire cosa c'è dietro le quinte di internet, quali sono i diritti e i doveri in rete, come gestire le emozioni online e dove informarsi, quali strumenti utilizzare per navigare in sicurezza, come tutelare il benessere digitale e promuovere l'uso creativo del digitale.